Benvenuti giocatori, eccovi una novità assoluta nel campo delle esperienze outdoor nata dalla collaborazione tra Ursus Adventure ed Escape Experience. Abbiamo ideato e poi creato un'emozionante coinvolgente esperienza a contatto con la natura che vi porterà a scoprire quali misteri si c'erano dietro ad alcune storie incredibili. A differenza delle escape room tradizionali non sarete chiusi in una stanza gioco ma l'avventura si svilupperà all'aria aperta. Enigmi, rompicapi e giochi di logica si fonderanno con la natura circostante creando un impatto emozionale unico. Attenzione, intuizione e spirito di osservazione vi guideranno nella storia riccate di colpi di scena. Il funzionamento è molto semplice, viene creata una chat di whatsapp come punto di contatto tra voi e il master. Scaricherete poi un'app gratuita nella quale potrete accedere con le vostre email. All'interno dell'app troverete un diario di gioco virtuale con regolamento, personaggi, storia e missioni da svolgere. Dal momento della partenza avrete un tempo ben definito in cui risolvere la storia e i quiz che mano a mano troverete. Il gioco sarà con i vostri compagni ma anche con tutte le altre squadre che precedentemente hanno partecipato. Impiegate il meno tempo possibile ed entrate nella Hall of Fame di Escape Advento. Un gioco unico nel suo genere consigliato per famiglie, gruppi di amici, feste di addio al nubilato e celibato, compleanni e team building aziendali. Siete pronti per l'avventura? Vi aspetto! Siete pronti per l'avventura? Vi aspetto!